Ciao a tutti, in questo video voglio spiegarti 10 strategie di flirt provate psicologicamente. Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale e partecipare alle live, quota veramente simbolica. E l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Adesso veniamo a 10 strategie di flirt provate psicologicamente per donne. Allora, e anche per uomini, è comunque per uomini e donne. Allora, la prima strategia fondamentale è quella dell'iContact. L'iContact va bene sia per le donne, devono farlo in maniera diversa rispetto agli uomini, e va bene anche per gli uomini. L'iContact è fondamentale. Una donna deve farlo per meno di 3 secondi. 1, 2, 3, al 3 si deve già togliere. L'uomo deve mantenere da 5 a 7 secondi lo sguardo, prima di distogliere un po', un po' di più. Ma la cosa importante è che questa vale sia per uomini e per donne, quindi la differenza è un po' il tempo, ma uomini e donne devono comunque alternare dall'occhio sinistro, occhio destro e bocca. Quindi questo è il modo per andare a stimolare, tra virgolette, perché l'iContact, il contatto oculare, è proprio un contatto, diciamo, e quindi si entra proprio in sintonia con l'altra persona. Va stimolata, diciamo, quindi l'emisfero destro, l'emisfero sinistro e poi la parte istintiva. Importante, attraverso le Contact, se ci alleniamo, possiamo anche cogliere un'eventuale midriosi, cioè dilatazione pupillare. La dilatazione pupillare, tieni presente, che significa uno stato di coinvolgimento. Quindi se noti che guardando negli occhi, questo è possibile, è abbastanza semplice che accada. La persona, il maschio o la donna, la femmina in questo caso, ha una dilatazione pupillare, beh, questo aumenta moltissimo la possibilità di coinvolgimento, cioè hai fatto bingo, l'hai in qualche modo già coinvolto. Seconda strategia di flirt, provata psicologicamente, Questa, esplicitamente per donne, è semplice, è un abbigliamento rosso, almeno un capo, qualcosa di accessorio, di rosso, ma un vestito rosso o le calze rosse, le scarpe rosse, qualcosa, è molto più attraente, una donna viene percepita molto più sensuale, molto più seducente rispetto ad altri colori. Questo è stato provato perché le stesse donne venivano fatte vedere, in studi appunto statistici, quindi su un grande campione di maschi, la stessa donna veniva riproposta in modalità diverse, con colori diversi, dopo diverse fotografie, e quando era vestita di rosso veniva percepita come più sexy, più sensuale, più attraente. Quindi l'abbigliamento rosso, da questo punto di vista, sul maschio, ha un effetto positivo. Terza strategia di seduzione, di flirt, provata psicologicamente, e questo vale sia per gli uomini che per le donne, è l'ironia, essere divertenti e essere ironici. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda l'uomo, diciamo, essere divertente e fare ridere una donna è fondamentale. Donna che ride, mutanda che cala, dice un proverbio. Ma anche per la donna, essere divertente e ironica, anche un po' talvolta irriverente, è molto utile per sedurre e conquistare un maschio. È una strategia di flirt molto interessante. E poi anche la quarta strategia di flirt, che viene vissuta diversamente, ma è comunque utile sia per gli uomini che per le donne, dimostrare sicurezza in se stessi, attraverso il linguaggio non verbale. Ovviamente viene espressa in modo diverso. Una donna si dimostra sicura, soprattutto quando cammina, deve avere una camminata sicura, ma anche molto sensuale, un po' ancheggiante. E quando è seduta, gambe accavallate, col piede che punta verso l'uomo, la gamba di sopra leggermente sollevata un pochettino per dare più tonicità alla gamba e sembrare più seducente. Per l'uomo la sicurezza viene esibita diversamente. Tenere le spalle comunque larghe, mai spalle convergenti. Guardare la donna, avere una postura, la postura dell'arciere, diciamo, ben piantata nel terreno. Questo è fondamentale. Quinta strategia di flirt, provata psicologicamente da studi statistici, fondamentalmente, che funziona sia per gli uomini che per le donne, è un sorriso. Sorriso vero, però, non il sorriso falso. Quindi devi imparare a sorridere con gli occhi. Sorridere con gli occhi, no sorrisi asimmetrici e no sorrisi falsi. Il sorriso deve essere vero, devono sorridere gli occhi. Questo ti fa percepire molto più attraente, molto più sensuale, molto più seducente. E poi c'è l'atteggiamento. L'atteggiamento per apparire alfa. Ecco, questo è un atteggiamento diverso tra uomini e donne. La donna deve apparire dolce con una gestualità materna, quindi una gestualità morbida. Mentre l'uomo, come atteggiamento, deve apparire un po' più rude, un po' più bad boy, perché è questo che lo fa apparire alfa. È l'atteggiamento migliore. E poi abbiamo, diciamo, la settima strategia di flirt, provata psicologicamente, che è il mirroring, cioè il rispecchiamento, fare da specchio l'altra persona. Questo vale sia per uomini che per donne. Ovviamente non devi scimmiottare, non devi farti sgamare da questo punto di vista, però piano piano, diciamo, rispecchiare un po' la postura, rispecchiare un po' la respirazione, diciamo, i processi fisiologici fondamentali. Questo è molto utile perché genera subito un coinvolgimento molto, molto rapido, perché avviene una sorta di identificazione inconscia. L'altro ti percepisce come l'altro se stesso, l'alter ego. E noi di fatto possiamo dire di no a tutti, ma non possiamo dire di no a noi stessi. E poi l'ottava strategia di flirt, provata psicologicamente, è la variabilità del tono di voce. Il tono di voce deve essere un po' variabile, perché se è statico non trasferisce emotività. Invece un tono di voce che varia, variabile, esprime molta emotività. E noi sappiamo che le emozioni comunque veicolano seduzione. E poi abbiamo la nona strategia di flirt, provata psicologicamente, che è legata alla fiducia in se stessi. Dimostrare fiducia in se stessi è fondamentale perché coinvolge, diciamo la verità. La persona fiduciosa, la persona che non ha timore, che non si presenta come timorosa, beh, è una persona che coinvolge, coinvolge moltissimo. Quindi dimostrati fiducioso, fiducioso in te stessa. E poi la decima strategia di flirt, provata psicologicamente per flirtare, appunto, è la kino escalation, cioè cercare un contatto casuale il più possibile con la persona. Ogni volta che entriamo in contatto, di fatto produciamo uno stimolo. E gli stimoli, da questo punto di vista, sono molto coinvolgenti. Bene! Allenati! Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra i livelli base dell'abbonamento per partecipare alle live e l'abbonamento seminario online per partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!